domenica 11 dicembre mezzogiorno e tre noi stiamo per fare colazione con il banana bread preparato ieri in live guardate che spettacolo al cacao è davvero eccezionale lo amiamo qui abbiamo i cappuccini le piccoline e l'ipadino per guardarci qualcosa mentre facciamo colazione ho porzionato il banana bread come vedete sono tutte coppie di fette che andremo a surgelare così da avere poi la porzione da tirar fuori per colazione con un banana bread io ho creato una due tre quattro cinque sei sette porzioni devo dire non male qui invece c'è quello che è rimasto da ieri come vedete è praticamente quasi finito mentre vado ad editare il vlogmas ne ho approfittato per fare una lavatrice e visto che vi interessava sapere che prodotti utilizzo nel cestello vado a mettere dash all in one pots extra igienizzante abbiamo comprato questa confezione da 43 pots in super offerta tipo a 10 euro infatti ne prendemmo due ci basterà tipo per un anno mentre nella vaschetta vado ad utilizzare vanish oxy action siccome oggi sto facendo i bianchi ho messo il vanish per i bianchi altrimenti utilizzo quello rosa qui invece abbiamo un profumatore del bucato di adele scusate se è in queste condizioni però purtroppo cola infatti vorrei scrivere per suggerirgli un tappo simil bref dopo ve lo faccio vedere è sicuramente pensato meglio perché questo qui ha il tappino dove tu devi versare il profumatore solo che non essendoci dentro un altro contenitorino quando poi lo andate a richiudere cola tutto quindi ho studiato questa soluzione ho messo un po di carta con un elastico in modo che poi vada ad assorbire tutto l'olio che cola perché altrimenti ogni volta facciamo un macello questa era un'edizione limitata di quest'estate bahamas veramente eccezionale infatti mi sono pentita di non averne prese tante dovrò rifare un ordine perché sta quasi per finire e ormai non ne posso più far a meno sono eccezionali ragazzi quindi se non li avete mai comprati provateli non sono ammorbidenti sono solo profumatori per bucato rimangono nel tempo anche dopo settimane veramente eccezionale me ne sono innamorata volendo hanno anche i kit con varie fragranze tipo 10 fragranze monouso per testarli vi volevo far vedere il tappo intelligente in questo caso loro hanno creato un contenitore nel quale misurare il prodotto e poi il tappo in realtà si avvita da qui quindi voi nonostante ci sia del prodotto e continui a gocciolare va a finire all'interno della confezione senza andare poi a colare lo trovo molto intelligente comunque per lavare a terra io utilizzo questo lo metto all'interno della nostra aspirapolvere che lava a terra che vi ho mostrato nei vlogmas precedenti è davvero eccezionale mamma lo utilizza praticamente da quando son piccola non l'abbiamo mai cambiato perché lo troviamo super efficiente nel frattempo ho fatto anche la camera mi manca solo da sistemare qualcosa qui e cambiare il letto però almeno sono riuscita a lavare per terra spolverare oggi giornata super produttiva qui vedete stese due lenzuola non sapevo come stenderle a proposito scrivetemi giù nei commenti voi come le mettete sullo stendino perché io non so mai come fare più che altro perché altrimenti se no non mi si asciugano con questo tempo noi stiamo cenando amore accendi la luce por favor wow oggi ho fatto una cosa molto da bambini ovvero la pastina le stelline al sugo di salsicce che mi era avanzato non so se voi le avete mai provate però se non l'avete mai fatto fatelo perché sono eccezionali christian era scettico invece mi ha detto mamma mia mon che buone anche perché diventano tutte cremosine catena di montaggio perfetta io ho appena finito di lavare tutto quello che abbiamo sporcato e christian sta asciugando evviva evviva oggi christian mi ha detto che li posso aprire tutti io i calendari allora 11 mon wow ma ormai ti sto battendo è vero oggi bacio classico odri ma hai una fissa per i baci perugina calendario dell'avvento l'int tanto ormai ci siamo spoilerati che di quello alla menta di quello al caramello ce ne sono solo uno adesso tiffani inizia ad abbagliare perché odri l'ha spostata di prepotenza titti cosa stai facendo è la matunz te lo dico io 9 no non è vero 11 pensa se adesso troviamo quello alla menta ma un ma un corno io lo dirò presto flor de sel certo odri ma con te è proprio difficile ma ci infila tutto il naso ci mette tutto il museo mamma mia ed ora il preferito di titatina titti ingegnione nazionalone eccolo aiutatemi a trovare l'undici mammina l'ha trovato eccolo qui apriamo il calendario non vi preoccupate ragazzi oggi ultimo vlogmas dal mio punto di vista da domani ricomincerò a vloggare anche facendomi vedere scusate ma sono stati giorni un po folli no non ci credo non è vero sono tutte praline qua dentro ma che ha messo solo praline ma quando le abbiamo trovate ieri o l'altro ieri le praline no cioè sto in depressione ma sono tutte praline amore abbiamo pagato 120 euro di praline mannaccia la cardarella no amore christian vuole andare a vedere quante praline ci sono i cremini amore spoiler no amore ci rimarremo malissimo già lo so 8 caselle ce ne aspettano ancora amore uno due tre quattro non ce la faccio più scusate allora compravo il calendario dell'avvento dei cioccolatini di knam 5 gelatine 20 praline solo tre cremini ma vaffa l'ovo ma che 120 euro ragazzi continuo a dire ruberia allo stato puro dire che sono scioccata è poco vabbè comunque lasciamo stare guardate oh questa sono proprio io in questo momento guardate il mio ritratto brava titti esprimi anche tu disapprovazione per questo calendario dell'avvento del kaiser christian oggi non ha aperto la casellina perché dall'11 in poi non li ho più scritti quindi stasera o domani mattina mi metterò a scrivergli amore magari domani ancora non lo trovi però per quando torni saranno tutte fatte vi ricordate quando vi ho raccontato che l'avevo trovata così guardatela e guardate la sorella dai sali sali togliamoti questo spizio tanto abbiamo capito che volevi farlo e che lo sognavi adesso se si butta pure lei sì comunque la situazione è questa io avevo spostato tutte le cose sulla serie di christian christian per giocare ha rispostato tutte le cose qui praticamente è un circolo vizioso però almeno queste sono tutte cose stirate vanno solo rimesse a posto sei felice titti brava ti sei arrampicata fino qua sopra da sola devo ancora lavare i copridivani prossima lavatrice li metterò a lavare anche perché due stendini abbiamo tutti e due gli stendini sono occupati quindi non posso permettermi di fare altre lavatrici in questo momento devo prima aspettare che si asciughi tutto ma a questo punto ho preferito il calendario di l'int tu che stavi facendo lì che aprivi le caselle lo vedi ma perché esiste anche il 25 eccolo è gigante infatti ma questo gigante non abbiamo ormai guarda ma l'hai pure rotto guardate cosa ha fatto christian è un po scomodo è un po scomodo bellissimo quello che c'è dentro giuro bellissimo ma aspettavo bello bello ma un bello tu avrai la sorpresa ma perché l'hai aperto perché ho detto visto che abbiamo aperto tutto ho detto ma sta casellona mica mi ricordavo sta casellona il 25 ma che arriva di moda che il 25 ma forse noi non l'abbiamo visto no non l'abbiamo no sicuro ma che cacchio dici ma c'è mai che casellone di qua è vero c'è un libro apriamolo no 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 dai apriamo che bello no ma c'è libricino ma che cacchio dici ma oggi è la giornata e le sorprese comunque posso dire che tutti i calendari rispetto quelli di ginio regalano sorprese maggiori questo è proprio dopo due anni c'è proprio ma dai guardate qui ci sono tutti i disegni no vabbè ma questo bellissimo è bello il 25 lo scoprirai sono innamorata altro che il ginione vabbè qui non ce lo spoileriamo perché ho paura che ti dice infatti ti dice tutto quindi non vediamo il 25 ma che figo che spettacolo amore bravo che l'hai visto c'era completamente mimetizzato fosse per me magari non l'avrei mai aperto in vita mia no perché ho visto qui ho detto il 25 abbiamo mai aperto vediamo che c'è qua dentro che c'è qui dentro non possiamo scoprire del 25 però non è possibile che non è possibile tutti spoileri tutto mentre noi non possiamo sapere nulla amore ma ti rendi conto il 25 molto probabilmente a causa di massare inizieremo la giornata in maniera terribile nera pece oggi ringraziamo zia asia che ci ha fatto scoprire questo balsamo per i polpastrelli delle piccoline e a base di burro di karité avocado e olio di jojoba io lo prelevo con il dorso dell'unghia e lo vado a mettere sul polpastrello che poi tittatina all'inizio scappa brava poi praticamente io la devo prendere mi ci devo mettere con la bocca vicino l'orecchio per tranquillizzarla perché ci sente poco quindi devo andarle a parlare molto da vicino e si tranquillizza con leccare quello che ho appena messo a tua sorella ma certo che sei una roba con loro due non ci si annoia mai pensate con 18 film dell'avvento di questa sera e christmas carol vi devo confessare una cosa non l'ho mai visto mi è stato consigliato ieri in live stavo parlando di quanto mi fosse piaciuto scrooge e quindi una di voi mi ha consigliato e christmas carol che ha come tema sempre lo stesso ovvero fantasma del passato presente futuro io mi sono già preparata oggi veramente un successone sono le 10 e 20 sto per mettermi ad editare questo blog mass quindi per domani sarà tutto pronto anche perché avrò la prima seduta con la psicologa ovviamente nel blog mass di domani vi racconterò tutto non vedo l'ora se mi sentite parlare un po strana soprattutto con le s perché ho il bite notturno le piccoline stanno già a lettino non sono riuscita a cambiare le lenzuola oggi lo farò domani scusate se mi sono fatta vedere poco ma stando sempre in pigiama tra l'editing e tra le varie faccende da domani le cose cambieranno per questo video è tutto spero vi sia piaciuto se così è stato mi raccomando lasciate like ed iscrivetevi al canale per non perdervi tutti i nuovi video che arriveranno io come sempre vi mando un bacione noi ci vediamo domani con un nuovo blog mass ciao